Ancora insieme per parlare di un tema che affrontiamo spesso, perché spesso con diversi punti di vista parliamo del boom turistico a Torino, tante presenze, tante visite, l'abbiamo detto durante dei grandi eventi, l'abbiamo detto un po' all'inizio dell'autunno, parlando anche più in generale del Piemonte, quando inizia anche un periodo enogastronomico significativo per tutta la regione, ma come ci piace fare cerchiamo di andare a parlare poi con i protagonisti dei vari momenti o dei vari fenomeni per capire quanto la situazione sia così. Allora, visto che parliamo spesso di turismo, diciamo boom di turisti, musei, visite eccetera, abbiamo chiamato, e grazie di aver accettato il nostro invito, il presidente di Federalberghi Torino, Fabio Borio, benvenuto, grazie. Grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Allora, noi abbiamo scritto turismo in Piemonte, hotel protagonisti come titolo, perché insomma, Presidente Federalberghi Torino, ma insomma, possiamo, crediamo, possiamo un po' estendere il discorso anche un po', anche di più a livello regionale, per dire, ma insomma, abbiamo sentito anche nel corso del nostro telegiornale, presentazione dell'ATP, grande aspettativa, grande attesa, il sindaco ha detto, noi ci proviamo ad averceli per altri cinque anni, ma partiamo proprio dalle cose più immediate, questa ATP davvero sposta e vi aumenta il numero di prenotazioni nelle camere degli alberghi torinesi? Beh, diciamo che l'evento ha successo planetario, quindi in primis è un sistema di comunicazione enorme per la città, abbinare il nome dell'evento alla città è strategico per riuscire a raccontarci, per farci conoscere, visto che comunque spesso e volentieri magari in giro per il mondo si conosce sempre le città più blasonate a livello italiano, Torino ha tutta una serie di caratteristiche che ben conosciamo e che potenzialmente possono favorire l'accesso al turismo nella nostra destinazione, però va raccontato e questo è il primo effetto importante che abbiamo. Dall'altra, quello che stiamo vedendo è comunque una grande attenzione, l'evento era magari conosciuto, un po' più tecnico magari quando era in altri paesi, da noi era magari, sì, seguito, dagli appassionati, però c'è un abbinamento di locale, nel senso è stato portato l'evento in Italia e quindi ha un certo tipo di attenzione anche da questo punto di vista, ma dall'altra abbiamo finalmente anche degli eroi nazionali, perché comunque nelle prime posizioni c'è non solo tanto ovviamente il primo al mondo, ma altre in posizione assolutamente interessante, quindi il tennis italiano viene riconosciuto. Quindi riferimento a SIN? SIN nel momento in cui vince, è automatico, possiamo dire, aumentano le pronotazioni. Bellissimo questa cosa, cioè fa riflettere. E non solo le pronotazioni in albergo, però dai dati che abbiamo potuto vedere, anche le iscrizioni e tesseramenti per quanto riguarda la parte sportiva, che è poi la parte importante. Ecco, è interessante perché, come diceva lei, a volte gli eventi, i fenomeni, gli eventi sportivi, ma non soltanto sportivi, è un fenomeno più diffuso e spesso sono un po' legati soltanto a uno spazio o a una modalità di fruizione. Mentre invece, almeno per le ATP si dice così, insomma, si è pensato anche, penso ad altri eventi torinesi, si è cercato di allargare un po' in modo tale che il turista che viene nelle vostre alberghi, il turista che viene a Torino, abbia la possibilità di girare un po' per la città, un po', seguendo quella scia, ma trovando anche altre cose. Quello che distingue la nostra città, e in questo dobbiamo farcene vanto, è la capacità di vestirsi a festa, ed è quello che è stato anche riconosciuto dagli stessi giocatori. Il fatto comunque di girare nella parte del centro, ovviamente l'Avenio è spostata dalla parte del centro, ma si sente il clima, cosa che magari in altre città non avveniva perché la distanza era eccessiva, o anche le dimensioni della città. Non siamo così grandi da disperdere l'evento, neanche così piccoli da non farselo, da essere fagocitati. Quindi c'è quel connubio corretto per far sentire tutti un po' in clima di festa e nello stesso tempo viviamo insieme. Allora noi spesso diciamo che naturalmente chi sta in albergo è probabilmente il primo volto e il primo sorriso, si spera che sia sorridente, che incontra un turista quando viene in città. E l'accoglienza, anche un po' più umana, diventa fondamentale per quella che ormai viene definita sempre l'esperienza. Come trovate i turisti contemporanei rispetto a qualche anno fa? Naturalmente c'è stata una lunga evoluzione. Sì, allora, di tanto quando parliamo di turismo ci sono tante cose, diciamo che il focus che ultimamente la città ha messo è quello un po' più vacanziero, quello che magari visita il museo, quello che viene per l'evento eccetera. Eravamo abituati a una clientela più business, quindi legata più a un tessuto ovviamente industriale che confidiamo e speriamo che continui, che diventa sempre un pilastro importante, assolutamente dal punto di vista economico, ma dall'altra l'apertura anche di altri mercati favorisce comunque quella pluralità di sistemi che comunque in una città come la nostra necessita. Quindi aprendosi a questo mercato all'inizio erano tutti molto stupiti, quindi l'atteggiamento era che meraviglia, non lo sapevo, non avevo idea che fosse così bella perché non è mai stata raccontata da un punto di vista turistico, vacanziero o comunque di… era più un mordifuggi magari nel weekend ed è stato tanto fatto per arrivare insomma a una consapevolezza di conoscenza della città. Oggi questo diciamo a livello italiano è abbastanza consolidato, quindi viene riconosciuta come destinazione. C'è un lavoro importante nel… diciamo nei paesi più vicini, Francia e Svizzera in primis, comunque ci sono dei buoni flussi, piano piano mentre si allarga insomma il cerchio deve aumentare la comunicazione e l'abbinamento a questi eventi può aiutare questa internazionalizzazione della città. Certo. E invece uno dei temi un po' scottanti è quello del vostro rapporto, non vostro direttamente a Federalberghi, ma sicuramente nel mondo dell'hotellerie con le camere affittate, B&B, persone che insomma in teoria dovrebbe essere soltanto… nell'idea dovrebbe esserci la signora che ha la casa libera perché… c'è una camera libera perché la figlia è andata a studiare all'estero e allora dice vabbè l'affitto… in realtà sta diventando quasi una cosa professionale per alcuni, no? Voi vi lamentate di questo? Allora, qualche anno fa quando lanciavamo l'allarme da questo punto di vista, per il fenomeno che era, era proprio questo il senso. Attenzione che il mercato è lo stesso, chi lo fa non lo fa, era una copertura, lo fa per professione, ormai abbiamo fior fior di professionisti che fanno determinati tipi di attività perché quella è un'attività in piena regola, quindi nel momento in cui ti affronti lo stesso mercato devi avere le stesse regole. Le stesse regole, mi ricordo, sì. Questo non vuol dire demonizzare quel sistema ricettivo, anzi noi abbiamo degli associati all'interno della Federalberghi, al di là del nome che nasce quando questo tipo di ricettività non c'era, ma il nome è ormai conosciuto in questo modo, ma non è soltanto l'alberghiero, noi copriamo anche la parte dell'estero alberghiero, però lo fanno in attività imprenditoriale, quindi ovviamente nel momento in cui una persona, un soggetto… Con tutte le grani di un professionista per usare dei termini facili e le tasse di un professionista. E' probabilmente anche quello, sicuramente che è quello. Nel momento invece in cui si trova insomma un po' di ombra da questo punto di vista, beh è chiaro che allora la competizione non è più, non siamo tutti nella stessa linea di partenza e questo ovviamente va a discapito da una parte del cliente, perché ovviamente potrei non avere il livello di sicurezza adeguato o dal punto di vista economico, perché è comunque una detrazione al sistema ricettivo e al tutto. Quando poi si gioca solo e esclusivamente in competizione dal punto di vista tarifario, ovviamente ne va a discapito la parte qualitativa, invece che quella che invece interessa. A parte che devo dire che ormai non è che non le trovo neanche sempre così più economiche, c'è una volta forse. E' perché piano piano ci sta adeguando, adesso c'è una legge a livello nazionale con una registrazione. La situazione sta migliorando quindi un po' dal vostro punto di vista su questo aspetto o invece chi piega sta prendendo. Credo che succederà questo. Quelli che da un certo punto di vista hanno deciso di fare quell'attività e quindi si sta mettendo in regola su tutte le caratteristiche, quindi si adegua, esiste il codice nazionale, esiste la comunicazione ovviamente in questura, la registrazione a parte del trasso giorno e quant'altro e poi la parte strutturale, quindi le case devono essere comunque di sicurezza e quant'altro. Dall'altra parte invece chi comunque magari ha vissuto un po' nell'ombra o si tira fuori dal sistema perché poi in un modo o nell'altro diventa più redditizio, a quel punto rimette un circuito di affitti normali, oppure continuare a vivere nell'ombra. Ma a Torino perché in altre città si sente forse di più o è una mia impressione? Perché vedo che a Milano ad esempio sono facendo... Noi abbiamo 6.000 annunci, quindi significa 6.000 appartamenti in vendita sulla città di Torino e prima di cintura, diciamo così, che vuol dire pesano come 60 alberghi da 100 camere, ma noi a Torino non abbiamo 60 alberghi da 100 camere, quindi il peso è assolutamente forte, si sente. Di questi vedremo poi nella registrazione quanti decideranno di essere attivi da quel punto di vista. Certo, siamo in chiusura ma richiedo ancora adesso si sta andando anche verso il periodo delle feste, Torino sta cercando di muoversi anche con delle proposte per il periodo di Capodanno, Natale, i mercatini eccetera eccetera, ma le chiedo qual è l'esigenza, la richiesta che in questo momento il suo comparto fa all'istituzione, dalla regione alla provincia al comune? Allora, intanto noi abbiamo un'immagine da tutelare della città, stiamo andando in una direzione dove raccontiamo chi siamo e le bellezze che abbiamo, va gestito con attenzione la parte diciamo dell'ordine pubblico, della sicurezza che è un tema nazionale, ovviamente diventa assolutamente importante, ci sono alcune situazioni diciamo un po' più incancrenite in alcune aree della città, la parte del centro che è un po' la zona dove il turista gira e commenta poi anche sui, sul mondo insomma di recensioni e quant'altro e quindi è un moltiplicatore d'effetto, beh un po' di attenzione da questo punto di vista ci vuole per avere poi il giusto effetto, gli sforzi da una parte. Ma in concreto cosa vuol dire? Che cosa bisogna fare secondo lei? Beh, controlli, controlli, c'è un po' di micro criminalità, ci sono delle situazioni, delle spaccate, delle danneggiamenti anche delle auto che quando vedono le targhe dei clienti che magari sono stranieri, tanto non denunciano quindi allora a quel punto vale la pena fare un colpetto. Non diamo idee ma insomma è così. Ho capito però. No, 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 fa bene. E quello, una serie di attività, delle situazioni istanziali, situazioni dove si bloccano e si incancreniscono magari sotto i portici, fa parte di quell'ordine, quell'attenzione giusta che è una città che si propone e visto che siamo un po' più al centro, anche in paesi nordici l'occhio lo tirano. Poi ovviamente sappiamo che cosa vuol dire il livello di difficoltà che c'è però questa è una richiesta che in questo momento avviene e che poi ritorna come necessità del cliente. Esattamente. Chiusurissima davvero come è il periodo di Capodanno Natale, come sta andando come prenotazioni, proprio telegrafico perché è un periodo comunque buono, si stanno cominciando a vedere le prime prenotazioni, i primi interessi e sicuramente anche quest'anno Capodanno sarà ottimo. Grazie, grazie a Fabio Vorio, Presidente di Federalberghi Torino, attraverso lei un saluto a tutto il mondo della ricettività torinese e mi permette anche piemontese perché sappiamo come dicevo prima che siete il primo incontro del mondo con Torino e con il Piemonte. Quindi buon lavoro a voi, grazie in bocca al lupo per questo periodo di particolare intensità e di lavoro. Grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento.